Il sarcofago ritrovato da un agente delle forze dell'ordine alla fine di luglio su una spiaggia di Varna, in Bulgaria, sarebbe dell'epoca romana. Secondo l'archeologo Alexander Minchev, il periodo si colloca tra il II e il III secolo d.C., nonostante alcuni dettagli suggeriscano che l'oggetto risalga al II secolo. Il sarcofago si trova ora al Museo archeologico di Varna, dove verrà analizzato dagli esperti. Il ritrovamento ha destato perplessità sulla conservazione del patrimonio culturale nel paese. Il Ministero dell'Interno bulgaro non ha rilasciato ulteriori dettagli su come il sarcofago sia finito su una spiaggia.